In breve Si conclude nella settimana la serie di incontri Invito in Giardino Il 13 giugno i storici d'arte Claudio Bertolotto e Franco Monetti e il critico d'arte Arabella Cifani hanno presentato il volume di Monsignor Giuseppe Ghiberti Marianna Fontanella, Beata Maria degli Angeli Storia, Spiritualità, Arte nella Torino Barocca Stiamo un po' riscoprendo il valore di questa figura che pur essendo stata claustrale per tutta la vita ebbe però tanta importanza sia nei consigli che dava alle persone altolocate sia nel grande impegno che ebbe nei confronti di tutti i bisognosi della città soprattutto nel momento del grande assedio del 1706